Buongiorno e bentrovati, nuova edizione del TG Noi, edizione giorno, i fatti della mattinata in primo piano, gli aggiornamenti di cronaca. Partiamo proprio dalla cronaca, da un'operazione della Guardia di Finanza di Viareggio, due attività a Viareggine che sono state controllate e sono stati scoperti migliaia e migliaia di articoli natalizi non in regola con le normative sulla sicurezza. Un maxi sequestro complessivamente da 40 mila euro. Due interventi, dicevamo, nel giro di pochi giorni, di recente, proprio in queste settimane che precedono le festività e la stagione degli acquisti. Prima operazione ad un banco gestito da cinesi al mercato fisso di Viareggio in una bancarella. Erano esposti numerosissimi articoli, 8 mila pezzi, giocattoli, bigiotteria, decorazioni, tutto in violazione della normativa in materia del codice di consumo e sicurezza dei prodotti. Il titolare è stato sanzionato e rischia fino a 35 mila euro, merce tutta che è stata sequestrata. Si tratta poi invece di un secondo negozio, in questo caso gestito da italiani, un noto negozio di articoli per la casa di Viareggio che vendeva altri articoli, soprattutto addobbi natalizi e decorazioni per alberi di Natale, statui, resine e metallo. Anche questi non avevano l'etichettatura corretta. L'etichetta era sostituita da altre diciture che ne rivendicavano una presunta origine artigianale, stratagemmo utilizzato per rivendere questi articoli, alcuni li avete visti nelle immagini, addirittura 500 e 800 euro. Tutto sequestrato, il titolare ha già pagato la sanzione. Ma vi daremo dei dettagli in più nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, vista l'attualità di questa fase di acquisti dove c'è da prestare la massima attenzione per acquisti sicuri, così spiega la finanza. Parliamo di tutt'altro adesso. Domani, venerdì, primo di dicembre, ricorre la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, una mobilitazione che non risparmia nessun territorio. A Lucca e in provincia sono tante le iniziative e si parla soprattutto ai più giovani. Ascoltiamo. Sono quattro le nuove infezioni da HIV in provincia di Lucca. I dati relativi agli ultimi 12 mesi sono stati diffusi dall'azienda sanitaria locale in vista della giornata mondiale per la lotta all'AIDS. E' venerdì primo dicembre. Un decremento importante delle nuove infezioni e dei nuovi casi. Abbiamo soltanto notificato quattro casi fino a oggi. Altri due casi sono in corso di definizione diagnostica. Questo è un bel risultato perché c'è un calo di circa il 60% rispetto ai dati del 2022. L'età mediana dei nuovi casi è di 59 anni, con range dai 40 ai 68 anni. Questo fa capire come la percezione del rischio sia una percezione ritardata, quindi un accesso al test unicamente quando ci sono i sintomi della malattia. Questi dati mostrano un'incidenza non più, almeno per il 2022, per le età più giovani, ma bensì pian piano si sta allungando e sovrapponendo in età intorno ai 40 anni. A fronte di una progressiva stabilizzazione dell'infezione da HIV, permane la preoccupazione per le diagnosi ritardate che riducono le possibilità di trattamenti adeguati e permettono la diffusione inconsapevole del virus. Fondamentali quindi le strategie preventive, quali il test and treat, cioè il testare e trattare con terapie antivirali che impediscono la trasmissione dell'infezione, anche attraverso campagne di screening come quella in programma sabato 2 dicembre in piazza Guidiccioni, dove dalle 15.30 alle 19.30, grazie alla collaborazione con Croce Rossa, sarà possibile sottoporsi ai test rapidi, gratuiti e anonimi per l'HIV e l'epatite C. Io sono convinto e sono certo che nei prossimi anni probabilmente vedremo ancora dei buoni risultati nell'andamento di questa infezione. Torniamo a parlare di violenza contro le donne. A Campo di Marta Lucca è stato piantato un olivo in memoria di Vania Vannucchi. Ricorderete purtroppo l'operatrice sanitaria lucchese vittima di femminicidio nel 2016. Andiamo a vedere. Un olivo, simbolo di pace, in ricordo di Vania Vannucchi. L'albero è stato piantato nella cittadella della salute Campo di Marte, proprio in prossimità del luogo in cui l'operatrice sanitaria lucchese fu uccisa nel 2016. Un luogo della memoria per Vania, ma anche per tutte le donne che come lei sono state uccise, hanno subito violenza. Qui inizi un percorso di lavoro e di studio con i ragazzi, con i lavoratori del Campo di Marte e che si possa così arrivare a raggiungere l'obiettivo di non violenza. L'iniziativa, promossa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha coinvolto alcuni studenti della scuola Civitali, che si sono mossi in corteo fino al luogo dell'uccisione di Vania, portando un messaggio e una voce di sostegno e solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Proprio ai giovanissimi si rivolge l'impegno del consultorio pubblico della Piana di Lucca, che, assieme alla struttura di educazione e promozione della salute, porta avanti una campagna di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La violenza e la nascita degli stereotipi di genere la contrastiamo a partire dai primi momenti. I consultori pubblici sono una realtà presente all'interno del nostro territorio nazionale e regionale ed è lì che devono andare i maggiori investimenti. Importante è anche il ruolo delle associazioni del territorio, come la città delle donne di Lucca, che promuove e realizza la solidarietà tra donne di differenti generazioni, contesti sociali e provenienze geografiche. Non solo produrre un cambiamento culturale e sociale, ma far conoscere anche i servizi a cui le persone, uomini e donne, possono accedere. È importante avere consapevolezza, riconoscere la violenza e dai primi momenti farsi aiutare. Quindi anche stamani, insieme alle studenti e alle studentesse del Civitali, abbiamo voluto lanciare un sasso per dire che non si è mai soli e che insieme alle associazioni e ai servizi del territorio si può affrontare la violenza prima che degeneri. Voltiamo pagina adesso. Dopo una lunga, lunghissima fase di stallo nei rapporti tra Via Reggio e Firenze, sembra raggiunto, anzi è raggiunto, così è stato annunciato l'accordo tra il sindaco del Ghingaro e il presidente Gianni per sbloccare risorse e progetti per lo sviluppo dell'apporto. La firma su questo nuovo protocollo domani mattina. È l'annuncio che non ti aspetti. Il sindaco Giorgio del Ghingaro e il presidente della regione Eugenio Gianni hanno raggiunto l'intesa per il rilancio del porto di Via Reggio. Dopo mesi, se non anni, di scontri a distanza, la giunta regionale e quella comunale fanno sapere infatti di aver approvato un protocollo che sancisce collaborazioni importanti fra i due enti, sia per la progettazione che per il recupero di risorse per la realizzazione delle infrastrutture principali della città. La firma del protocollo è prevista per venerdì a Firenze, nella sede della Presidenza. Un'intesa che arriva quattro anni dopo quella siglata con l'ex presidente Enrico Rossi in municipio a Via Reggio, che prevedeva impegni economici precisi per decine di milioni su sabbio d'otto, asse ripenetrazione, banchina commerciale, sviluppo del triangolino. Tutte partite fondamentali per lo scalo marittimo, rimaste però incagliate nell'arena della politica, un po' come gli yacht bloccati nei giorni scorsi all'imboccatura del porto. Il nuovo protocollo, fanno sapere, si pone in effetti in continuità con i precedenti protocolli stipulati nel 2016 e 2019. Rispetto a quest'ultimo si aggiunge anche il tema dell'alta formazione, ovvero la riqualificazione dell'ex caserma dei Carabinieri, che ospiterà l'ITS di Isil. Occorre recuperare una visione d'insieme, si spiega in una nota, con l'obiettivo di consentire lo sviluppo effettivo dei territori. La distanza tra Via Reggio e Firenze e il gelo nei rapporti politici fra Del Ghingaro e Gianni si è plasticamente mostrato nel mancato accordo sulla nomina del segretario dell'autorità portuale, che gioca un ruolo di primo piano nella gestione di tutti questi dossier. Se insieme al Sereno si è arrivato anche l'accordo su un nome e su quale, lo sapremo con certezza probabilmente venerdì, al momento della firma a quattro mani. Su noi tv.it adesso per continuare ad aggiornarvi sui fatti delle ultime ore, sul nostro sito web, vedete in home page la notizia che già vi abbiamo dato in apertura sui giocattoli adobe di Natale non a norma sequestrati dalla finanza a Via Reggio, trovate ovviamente anche gli altri fatti in primo piano. Mi soffermo su questa notizia molto attesa dai fan di tutta Italia, di Lenny Kravitz, che torna a Lucca, Piazza Napoleone accoglierà finalmente il 12 di luglio 2024 Lenny Kravitz, dopo una pausa durata 5 anni, l'ultimo tour del cantante statunitense toccò l'Italia nel 2019, anno in cui si esibì proprio a Lucca Summer Festival, un artista che certamente non ha bisogno di presentazione e che gode di una fortissima fama anche in Italia, con tantissimi fan e ammiratori che senz'altro arriveranno anche a Lucca per questo concerto che ovviamente fa già parlare di sé e le aspettative sono come sempre molto alte. Rimaniamo a Lucca, poca distanza perché andiamo al Teatro del Giglio, si è aperta la stagione invernale, la prima serata nel segno della musica e soprattutto del ricordo dell'omaggio al maestro Giacomo Puccini nel giorno del 99esimo anniversario della sua scomparsa. Un'emozione unica, vibrante, quella vissuta al Teatro del Giglio in occasione del concerto organizzato dal comitato Giacomo Puccini nel giorno della sua morte, avvenuta il 29 novembre del 1924. A regalare tanta qualità, i componenti della Wiener Philharmonica, una delle orchestre, se non la più famosa al mondo, guidata dalla bacchetta di Adam Fisher. La serata si è aperta con i saluti istituzionali, prima il presidente del teatro Giorgio Angelo Lazzarini, poi, non senza emozione, il presidente del comitato, il direttore Alberto Veronesi. Sono perfettamente emozionato e orgoglioso e anche onorato di poter celebrare oggi l'inizio di questo centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini con le più grandi, straordinarie forze artistiche oggi presenti nel mondo. Con il concerto del Giglio si sono aperte ufficialmente le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini alla presenza anche del sottosegretario della cultura Gianmarco Manzi. E' l'ultimo grande operista della storia e della cultura della nostra nazione, ma è un compositore che è molto presente per la sua modernità e affascina ancora le platee di tutto il mondo con una grandissima forza. Sulla stessa linea anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini. E questa sera c'è un omaggio incredibile perché avere qua i Wiener Philharmonica nella nostra città è un'emozione, sarà un'emozione bellissima che stiamo tutti per godere e io di questo ringrazio il Comitato per le celebrazioni pucciniane che ha permesso la realizzazione di questo grandissimo evento. La prima parte della serata è stata interamente dedicata alla messa a quattro voci di Giacomo Puccini con le voci soliste del tenore Vittorio Grigolo e del baritono Massimo Cavalletti. La seconda parte, il Libera me del Requiem di Verdi. Al termine tanti minuti di applausi che sono poi proseguiti anche nel ridotto del teatro e hanno confermato il successo di una serata straordinaria per la città di Lucca. Mi fermo qua su queste immagini e su queste note per la parte di Cronaca. Tra poco le notizie sportive e noi ci rivediamo subito dopo per la terza parte con gli eventuali aggiornamenti di Cronaca. Grazie per la visione! Grazie per la visione!